Sono un immigrato, un immigrato bergamasco qui a Milano. Appena arrivato il mio primo problema è stato di essere solo. Ho rotto un tabù, ho iniziato a bussare alle porte dei miei vicini offrendo un caffè. Da qui è nata una rete di solidarietà, di aiuto alle persone che è cresciuta nel corso degli anni e coinvolge persone di tutte le provenienze e di tutte le età. Sono Luca Pedercini, sono candidato per il Consiglio di Zona 1 per il Partito Democratico e voto al Comune per Maria Elisa D'Amico. Abbiamo bisogno di qualcuno che lavori sulla solidarietà, sui diritti e soprattutto sui diritti negati, quindi un avvocato vero per delle persone vere. Anche nella Zona 1 il centro storico in teoria alla zona più ricca della città ci sono storie di diritti negati. Un esempio molto concreto è un portinaio di un palazzo del centro egiziano di origine, sfruttato da una cooperativa che in teoria doveva essere una cooperativa solidale. In realtà praticamente tre quarti dei soldi che il condominio pagava per il servizio rimanevano a questa cooperativa. siamo anche riusciti ad intervenire e a risolvere cacciando la cooperativa che ovviamente aveva agito tra l'altro nell'illegalità più totale e aiutando questa persona ad aprire una ditta individuale e poi assumendolo direttamente il condominio. Questo è quello che vorremmo cercare di fare, dare anche delle risposte molto concrete su cose che possono essere piccole ma fondamentali come i diritti umani.